L'insaziabile fame di vittorie spinge Arianna Fontana per la settima volta nella sua straordinaria carriera sul trono d'Europa. La 27enne di Polaggio di Berbenno, portacolori dell'Italia alle prossime Olimpiadi Invernali, è stata la protagonista assoluta della terza giornata dei campionati europei di short track conclusisi ieri a Dresda. Dopo la doppietta dell'altra valdellinese Martina Palcepina sabato nei 500 e 1500, ieri è stata Arianna, che il giorno prima aveva dovuto accontentarsi solo di un argento, a prendersi la scena vincendo con autorevolezza la gara dei 1000 metri, mentre la Valcepina cadeva nella finale B. Risultati che, alla luce dei piazzamenti di tutte le gare disputate, compresa la superfinale dei 3000, hanno consacrato la conquista per la settima volta da parte della Fontana del titolo europeo assoluto davanti alla stessa compagna di squadra e di colori. Entrambe infatti, cresciute nella Bormio Ghiaccio, militano ora nel gruppo sportivo delle Fiamme Gialle. Per la Freccia Bionda, un successo che la porta ad eguagliare la bulgara Radanova tra le atlete più vincenti di sempre nello short track a livello continentale. Anche per la Valcepina è il miglior piazzamento in carriera in un europeo. A loro, il plauso via Twitter del presidente del CONI, Giovanni Malagò. «Sono molto felice, non ero venuta a Dresda per vincere a tutti i costi, ma per trovare le sensazioni giuste anche in vista delle Olimpiadi», dichiara sul sito della Federazione la Capitana Azzurra, scesa sul ghiaccio rilassata e tranquilla, nonostante qualche problemino di troppo nella giornata di sabato. «Il fatto di essere portabandiera a Pyeongchang, aggiunge, mi dà responsabilità, ma soprattutto mi carica. Vedere che siamo in così tanti a far bene e a vincere mi convince del fatto che le premesse sono le migliori a poche settimane dai giochi. Il mio settimo titolo lo dedico ai miei genitori, alla mia famiglia e a chi mi sostiene ogni giorno, a partire dal fan club che anche a Dresda mi ha fatto sentire la sua presenza, dandomi grande forza. Bene anche la staffetta, quartetto di cui fa parte anche l'altra valtellinese Lucia Peretti, che, seppur relegata per una sfortunata caduta della Fontana nella finale B, ha ottenuto poi il miglior tempo assoluto facendo vedere le sue ambizioni e potenzialità. Tra gli altri valtellinesi in gara a Dresda, i veterani Nicola Rodigari e Iuri Confortola, quarti nella finale della staffetta massile con record italiano e a un soffio dal bronzo.